6 morti e 4 periti gravi per un attentato in una sinagoga a Gerusalemme, accuse reciproche Israele e Palestina. Un incendio probabilmente di origine dolosa ha distrutto un bar a Cerignola nel Bogiano e è accaduto alle 5 del mattino. Alta tensione a Ferguson per la decisione sull'incriminazione di un agente bianco che ad agosto ha ucciso un 18enne di origine nera. Si temono nuovi disordini. Grazie.